Alcamo piange Lorenzo Asta, 34enne, giovane, vittima di un terribile incidente stradale che si è verificato all'alba di ieri a Partenico. L'uomo stava tornando a casa dopo aver passato una serata in compagnia della sua fidanzata, quando c'è stato lo schianto con un'altra autovettura. Entrambe le auto sono state sequestrate per provare a ricostruire con esattezza quanto accaduto. Si attendono anche i test tossicologici sul conducente dell'altra auto con cui si è andata a scontrare la vittima. Ad essere stato effettuato un prelievo ematico il cui risponso dovrebbe arrivare entro 4-5 giorni. Non c'è stato bisogno di autopsia. La salma di Lorenzo è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali che si terranno domani alle 10 nella chiesa madre di Alcamo.